ciao e benvenuti sul mio canale video tutorial che voglio proporvi oggi sono queste due presine per cuscina la prima è molto semplice da realizzare soprattutto perché le prime armi con il cuscito creativo la seconda è un po più impegnativa in quanto bisogna cuscire lo sbiego di cotone vi spiegherò un modo semplice per applicarlo sotto al video nella descrizione troverete tutto l'occorrente che serve per realizzare questo progetto e quindi non vi resta che seguire vari passaggi del video tutorial e se vi fa piacere lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao per realizzare la presina semplice ho tagliato due quadrati di tessuto a fantasia e uno di imbottitura della misura di 17 cm di larghezza per 17 cm di altezza ed un rettangolo di tessuto che misura 10 cm di larghezza e 4 di altezza e quindi per realizzare il nastrino che servirà per appendere la mia presina piega a metà il rettangolo segnando nel centro apro ripiego le due estremità verso l'interno e nuovamente ripiego su se stesso dopodiché vado ad eseguire una cucitura dritta con la macchina da cuscire e questo sarà il risultato adesso posizione il quadrato di imbottitura e due quadrati di tessuto a fantasia dritto contro dritto dopodiché piego a metà il nastrino di stoffa precedentemente realizzato e lo vado ad inserire all'interno dei due tessuti fermo il tutto con degli spilli e vado ad eseguire una cucitura dritta su tutta la circonferenza della mia presina lasciando un'apertura sul fondo di circa 5-6 cm che mi servirà successivamente per risvoltare dopo aver cuscito taglio il tessuto in eccesso taglio i quattro angolini e dall'apertura risvolto dopo aver risvoltato chiudo l'apertura con uno spillo e vado ad eseguire una cucitura dritta su tutta la circonferenza della mia presina e questo è il risultato per realizzare il secondo modello ho tagliato sia il tessuto a fantasia che l'imbottitura delle stesse misure del primo modello e quindi posizione il quadrato di tessuto a fantasia col rovescio rivolto verso di me appoggio sopra l'imbottitura e sopra l'altro quadrato di tessuto col dritto rivolto verso di me fermo le tre parti con degli spilli e vado ad eseguire una cucitura dritta su tutta la circonferenza della mia presina dopo aver cuscito rifilo il tessuto in eccesso e quindi vado ad applicare lo sbiego di cotone posiziono lo sbiego di cotone dritto contro dritto con il tessuto a fantasia fermandolo con degli spilli inizio effettuando una cucitura dritta con la macchina da cuscire e mi fermo un centimetro prima della fine dell'angolo e quindi abbasso l'ago alzo il piedino giro il tessuto ed effettua una cucitura in diagonale alzo il piedino e l'ago sistemo lo sbiego di cotone formando un angolo di 45 gradi posiziono di nuovo il tessuto sotto la macchina da cuscire e continuo con una cucitura dritta e quindi ripeto nuovamente abbasso l'ago alzo il piedino effetto una cucitura in diagonale e sistemo lo sbiego di cotone formando un angolo di 45 gradi posiziono di nuovo il tessuto sotto la macchina da cuscire e continuo la mia cucitura a questo punto mi fermo qualche centimetro prima di cuscire l'ultimo angolo posiziono lo sbiego di cotone iniziale verso di me e finisco la cucitura lascio 6-7 centimetri in più di sbiego di cotone che mi servirà per formare il cappietto dopo aver effettuato la cucitura vado a sistemare lo sbiego di cotone e gli angoli fermando il tutto con delle pinze oppure con degli spilli a questo punto per maggior sicurezza prima di andare a cuscire a macchina vado ad eseguire un'imbastitura con acqua e filo a mano per bloccare il tutto dopodiché vado ad eseguire una cucitura dritta con la macchina da cuscire grazie 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 Ed eccole qui, le mie presine per la cuscina sono pronte.